Oh c'è il contente, non ballano 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 Oh c'è il contente 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 Grazie a tutti. 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 Un'altra. Grazie a tutti. Mario... Grazie a tutti. I comandi. Grazie a tutti. se ti serve... vediamo... e... e... va... no... e... e... lui è lì... no... ritorniamo... ma... l'avete... si... si... ... si sente bene... si sente bene... si sente bene... un microfono... un microfono... si... da l'altra... da l'altra... si... 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 c'è... 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 in questa casa... in questa casa... in questa casa... la lascia... la lascia... la lascia stare... no... aiuto... dai... 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 tu... no non so te la... щ OVER API! iuditi... si... eeeh... aiuto... c'è delle bende è morto mario c'è delle bende della donna una benda c'è un porca vacca ma ce l'avevo anche io 5 da vai che ne è una porzione dalla indire di qua che io avevo le bende si ma dove si è morta questo internazio c'è stata la parola che vuole dalle rendi allora il tetto vuoto sola quindi mi stai trollando basso mi sto trollando di vero più niente no che volevi curare marie lavati simila che c'è mario tranquillo portata tra tre pozioni e un medico in quella casa e le bozzone di pasta e fagioli a vengo congelata no di schifo credi che la mia cucina no no siamo di più ho trovato altre bende ehi ho un pallone da caccia forse un pallone da caccia mario ma inizia a fare solo su mano pallone da caccia cos'è c'è il pallone da caccia qua basta raga questo è nasce di un lagno oh non lacrimare le lacrime confuse altre band mario mario fai in sei fai un pezzi mi fa paura con sto mitraglione mamma mia che c'è vuole che ti spara addosso te si io ho bisogno di artiglieri ma io ho paura mario di giù mi pare che sia questo bidone dell'immondizia che mi hai bloccato lui ma mi hai scegato tu che faccio la mente questa paramo ecco qua mettiamoci nella safe che hai giampato porca mi fai giampato non c'è andiamo dove il senso della safe e ci muoviamo dai a parte dopo un po' di materiale sono 24 giocatori in campo in campo? che hanno fatto due pallone conosci il modulo? 15 15 15 ah non è 5 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 non c'è 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 ma c'è ma c'è ma chi? io ah già ma non c'è ma lootate 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 e mi sa spingere lui lootate madonna mi allora niente? una bustina no niente Mario salame eh snava è cavolo e comprano qualche tipa la dina Qua non si schizia! Ciao Fildrin! Ciao! Ciao! Ciao ciao! Posso giocare con voi! Oh c'è gente avanti a me! Oh! Eh porca miseria! No eh vabbè! Minchia a tutti l'ha fatto! Uno l'ho atterrato? Come l'ho atterrato? Non lo so! Io te l'ho ferita e tu l'hai finito nell'atterrata! E' un po' E' un po' E' un po' o un altro cosa sbloccava un obiettivo rimanere al 25 simone affiniti rimane non riesce a fare altre partite e ti arrabbi in arabia va in arabia se ne riesce a farlo con la rabbia a tini la rabbia ma lo dobbiamo abbassare un po' con te pignola con una visora e balla e balla e balla e balla hai scelto sale perfetto pronti via sono sicuro in ritardo per me arriva il rima del bianco arrivo 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 la cagenda mario se è gente capito non ti mette paura siamo in cento mi sto mettendo con un certo mario tubi se mette in paura io non mi sto mettendo solo ma rimane se mettendo paura tra tutte le armi la rivolger arrivo no 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 materiale nooo non me l'ho finito una terra aspetta il compagno ma perchè mi saltava il personaggio ragazza a salire scale uno aiutami aspetta non ho capito perché mi saltava il personaggio ok vai mario fai il medico e non ti muovi se no mi devi non ti muovi se no mi puoi mi devi curare ma dov'è stavo venendo ma non riesco ad aiutarti un attimo porca di quella pupazza avanti 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 grazie 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 ma io che sto sempre per terra serve una mano torno ti ho lasciato quello grigio ma non ho più parole basso vedi che ti lamenti tu io che mi lamento lamento di ariel grazie se trovate bende io tengo solo il barilotto sale ti combina quanto c'hai di vita ti combina ti uccide no no il barilotto magari non mi riesco vuoi tu eh vi è qua dammi il barilotto eh ma te lo do eh se lo sai lascià ok perfetto qua se è qua se grazie c'è uno salto verde io dovevo dare la sera guardano poco questo qua eh tu ci metti mezz'ora non puoi far caricare i cacci dalle parti cerca cerca tu sei un cane tu sei un cane un lupo ma che sei non mi aveva messo in un meticcio ma anche mi ha ringraziato di che ho salvato la vita ma anche tu eh tu che vuoi stai a fare salvatore non a caso mi chiami salvatore c'è un falò comunque raga eh raga a me servirebbe io sto pub senza vita mo scherzi a parte sto a corto di vita vediamo se non troviamo niente in queste case ci facciamo un falò ci facciamo un falò si si dottor Ferragost vabbè mi fa piacere una bella grigliata eh grazie se l'è non te la porti bro vabbè dalla handy va dalla handy vai handy vai handy eh filrin siamo full però non lo so se si libera qualche post in futuro vai handy no 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 va fatti riscari va vai handy vattene hot 12 no bevi tu dai tanto lo stesso no no eh bevi mi scoperta la fuga e dov'è se è sul tetto ma te la porto io e qua e qua tieni ok utilizzati film grazie del follow grazie bello a me ancora nessuno mi ha fatto un altro follower bene che facciamo ma scusa non ti ricarica la vita è lo scelto da solito infatti prima la vita e poi lo shield ho capito ecco perché infatti ho detto ma ero bevuto no eri bevuto eri ubriaco sicuro c'è quindi merica capito quindi da 75 totali quindi se ti manca 75 di vita rip rip e peperoni per un patatone come si chiama il tuo amico su twitch chi intendi penso sniper giusto ma che a me che poi da me fa mandorlo se lo vado a fare la terra adesso per fallo a sale ma per cui sono insomma ci sono tanti quindi basta che guardi nick in alto a sinistra li puoi aggiungere se aggiungi lasciato pure fallo a sole che anche da una strumento fortuna bravo e anche a sniper wolf 995 che è anche lui uno streamer sta strimando perché adesso nome cognome codice fiscale e conto corrente grazie gli assegni di rischio nel canale trovare del suo codice iban per ricevere bonifici per ricevere perdonare che per ricevere del saga donazioni ragazzi sto faccio il fallo sono tentato se utilizzarlo meno no sì però dire di no lascia per film da dove vieni quanti anni hai dove abiti piaccia piacendo a usare per indagare con ci sono addirittura da devo rispondere il canale in chat di se le ragà guardate un attimo intorno torino 13 anni vengono 13 anni perfetto da guardatemi un attimo intorno adesso un attimo a spammare il canale di se le si connette magari alla chat volentieri ok perfetto supportate supportare un bel colicino non per colicino ma non ho messo rispondi fa pubblicità se è lei è perché te quante volte ti faccio pubblicità 24 24 h 24 20 mario io mi sei scaricato il controllo ma gente capisci che balla come mochi ho detto io ti faccio tanta musica a grazie e quindi perché oggi non la fai pure a me a gra gra proprio così diretto del bravo bravo travesco sfumazione giocatura di leggenda un po po cazzi passate anche da lord darkness mario 6 scriviti atto perché non è trovato a portare mano se non fai tanto 299 sì che facciamo dibattiamo non siamo così roba aspettiamo che finiscono il chi ha buttato la grana? io no allora che si fa? forse è proprio io uccidiamoli uccidiamoli aspetta 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 ok ora vai ora ok e c'era la qui l'ha buttata minchia in avanti ucciso perfetto raccogliamo le armi lo shield senza ah c'è il fucile quello nuovo no no prendilo raga ci avete vende o due shieldini anche c'è un medikit raga jenny prenditi il medikit ok grazie eh si me l'ha passata qua ce n'è uno allora ragazzi sono due shield grandi e c'è anche due piccoli aspettate un attimo ok fermi non vedete quello grande che c'è piccolo non vedete quello grande che c'è piccolo niente si dovevi muovere per non perlo più vai vieni se l tu sei full vuoi tu tieni handbrake di questo allora avete colpi del troppo per caso si tieni tieni lo tieni tu il medico mario aspetta vai raga senza shield ucciso dietro raga c'è un altro dove 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 dai 2.000 coordinate dove sono io qua raga nord-est davanti a me l'ha coppata l'ha coppata l'ha coppata l'ha città quando non boa attenzione di ba l'ultimo documented è non 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 quello in vita god da lì sopra senin! sopra dita!! vai eh facile siii!! ok vai va bene va bene ggggggggggg! tiene a tutti i compleann ok ciao giuseppe grazie a questo passato ci vediamo alla prossima e per supportare se lei mi raccomando lasciami un bel follo e anche a endeross e anche a mario vai cercali e lasciami un bel follo ecco si è sparmato anche mario quindi passate anche dal suo canale no sono in 10 euro a te mario nella video niente però sentite si è forte e scura forte scuro di scendiamo ok l'ho staccato la live vero votato un attimo posto e poi scendiamo va bene adesso il suo sale va bene condotti confusi si 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 è confuso dai una vittoria regale dai vittoria i cavoli ci hanno fatto belle io tra lì sono ammazzati però non aveva fatto solo uno era senza vita arrivano da tutti i lati c'è gente con noi dimmelo che sono una merda sniper non ti ho fatto lost e porca puttana e che ci avevamo fatto l'osso con il problema scusa vabbè dai minchia finito la live non ci sono problemi ma forse già di sto stando ah no in automatico di host vabbè così fatto ecco mi fatti morata con 3 diamanti grazie per l'osso si a che ce ne ho c'è allora pure se non lo fai e le bende bene mario visto che c'è un kit medico alle bende può andare anche in farmacia a cui non ci serve dietro al bancone è più adatto ti sbagna di fatti la ricetta e così mi tratti ma guarda che amico esatto guarda che a te non ti offro niente ti arrangi che mi offri i primincini che mi offri la capirina che mi offri tieni qualche arma almeno si piglia di vampa a cui vedi io tengo due armi due un'arma verde eh grazie che c'è un'arma più un'arma verde pure io c'è un'arma più una verde che vuoi dire e che si perde di invidia ehi cammini guarda un po' cammina tu forza comandante si si allora ce l'ha che serve a te capo al bacio no se no c'era di uno perfetto va bene no tranquillo vent'aggita stai qua ma vuoi? no no vai vai tieni guarda qua ti è morito casa niente eh uno scudo a 50 qua allora aspetta c'è uno scildino dividiamolo in 3 diciamo lo scudente c'è l'altro di spante no cacchio ho lasciato lo scildino giù non l'ho preso ma sono stupido sono anche qui i scildini ok allora ragà ci sono sopra altri scildini eh fermi tu questa è una rapina dai grazie dai piccati io scildi a 50 che hai mario grazie vediamo no la tv è rotta la tv è rotta? ma ne devi chiamare un tennista io sono un tennista eh giochi a tennista? aspetta sono un tennista qui c'è un altro scudo a 50 ah io ho capito che sei un dentista aspetta Andy 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 che è qua Andy bro qui quello lo prende Mario poi di sopra c'è no va su sopra aspetta bro fermatelo un secondo tieni ho raccolto uno scudo eh se serve hai uno scudo? si uno da 50 eh passalo no vedi vedi infatti full bevi lo tu Mario bevi lo tu così ti fai 100 di scudo eh arrivo a 100 eh serla o qualcun altro insomma c'è uno scudo di rosa che va giù sotto aspetta no 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 ti infilare il microfono in bocca aspetta come romano lo bevo io ah lo vuoi tu ti 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 no lo stress che cambia eh dacca però non mi frega il mio fusile di chi è che si è frega del mio fusile pomo io non ho preso niente no io non ho preso niente Mario fai schifo io non ho preso niente no Mario fai schifo basta no va ma mi devo lanciare con questa scoppetta del nonno andiamo un po' schifo la polpa del nonno eh la polpa si il pomodoro del nonno polpa di pomodoro brava passato pomodoro eh che l'è passato ma lo abbiamo del presente c'è gente da testa lassù siamo un kit medico chi sta aspetta raga fermi tutti il kit medico chi lo vuol portare entrate in casa no no c'è uno qua sopra con le fermi tutti uccidiamole è solo in teoria aspetta che muo arrivo FK eh va ammazzato ho lasciato 15 band in casa raga eh che devo fa aspetta ok l'hai preso tu Mario dopo passalo a me il kit medico Mario passi il kit medico ci sono scildini scildini ne riporto io ah l'hai preso tu brava 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 raga il kit medico raga spara non ci catapoltiamo sì vabbè il kit buttiamoci ho da loro già va no 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 all'apporto di loro dove andiamo qui questa direzione è qui che si fonde ho capito ma aveva mica così apportata di mano è giusto è meglio evitare lo scontro Mario kit medico Mario kit medico facciamo seguito ragazzo lontano no dai siamo circondate adesso è giusto non è possibile mezza no 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 penso che non dovranno seguire ma dove cazzo sono io ero lì solo no ne ho capito se l'enea uno a terra sinistra andy scusi un altro è morto ce n'è uno non capisco dove forse ha 120 sono morti sono morto eccolo lì vicino alla cassa rossa è rotto andy attento 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 dov'è sta lì sta costruendo le barricate ma è uno solo no ma quanti cazzo sono tre sono due qui giudo con live ringraziamo lo streamer enderos ringraziamo la streamer salve 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 noi quindi abbiamo fatto un team da streamer oggi quindi passate dai loro canali che ora vi lascio qui ve li lascio in chat per te ce l'ho il comando mi parli di no endy vero no no non so non ce l'ho vabbè ti chiami così l'ho lasciato comunque il comando questo il suo nome su twitch eccolo infatti il rosso poi passare anche da mario va lasciato come al canale e noi ci vediamo domani buona sera da tutti ciao 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 perfetto ce ne famo una offline prima dobbiamo andare a cena ok vai ecco qua sta col tolermo così lo faccio dormire un po' ok raga sto streamando solamente io dopo che finiamo anche questa live chiudo pure io lo streamer va bene che scegliete dai uc è sempre tu sale è qui no basta basta vedete voi allora scelgo ma scelito non guardare il mio punto ok pronto ma chissà di se ormai mi ha passato un problema sulla playstation no non mi ha tirato quel gioco di competitivo già soffrendo da poi scopazzo la testo ma non pari assi sono sceso la sony l'ha venuto e acquistato i diritti prima o poi lo passeranno anche su console non c'è forte quindi che cacciate in frigo di questo caso di cuore io ho scaricato persino h1 troppo lo scar aspetta se gente fermi tutti se gente sì c'è gente da maravano un secondo che recupero armi ci sono non ci credo non è passato è mancato si è sempre sicura l'arma no tra tante armi proprio il termico raga se c'è tanta gente riuniamoci è pieno da ma sto lontanando che è pieno porca troia arrivo ma seriamente non riesco a prenderlo boh caccio raga raga via mario no 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 bende non ho bende sul tetto della casa non ho bende ho sette di vita è sul tetto della seconda casa veloce si quella di fianco alla mia 20 ok andy c'è di presso minchia con le pistole o gioco meglio rispetto allo scarri viola ma che cazzo da vicino mi viene mai probabilmente dobbiamo buttare il piano di sopra hanno già lotato ok hanno già lotato quindi ragazzi c'è il kit medico ancora se li ho portare in mano ma lo son fatto vabbè c'ho dei cinque band va bene va bene ma se mi tre le bende qualcosa per razza un po di vita ai montieri mario ai munizioni per il p90 piccole 52 no ti posso dare da meno quelle perché io sto proprio a corto di munizioni capito l'ho niente io acqua ci sono stata la casa adottare quale questo dove sei tu o l'ultimo tutt'è io faccio i corsi c'è un medico qui ok non so se spararmelo almeno ma sul torre direi che me la posso prendere secondo me anche secondo me che dici posso prendere sul no grazie vabbè comunque la strada quella grazie medici lo posso l'ho lasciata lì ok questa casa avevo iniziato ma poi ha lasciato il lavoro a metà bravo bravo eh eh mi avevi detto arrivate dove mi sentivo in colpa non so stavo lì è veramente io sto a resuscitare ma arriviamo fuori di cantare rosse e rosse per te e trovi altre belle belle brevi di mare a questo credo che le storie c'è qualcosa di interessante di là qui hanno già saccheggiato tutti doppia storia qui si riserva che colore viola no ma si perde il viola eh non ti piace il viola colorali te eh c'è la bomboletta io quando stai c'è una salta qualche parte eh ce l'ho io no 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 non dicevo no aspetta ferma di un atto ok almeno così non dovresti pucciare dai per così poco si diritto ci dirigiamo al campo sportivo andiamo al campo sportivo prendiamo la macchina io andrei a piedi la macchina e ci sono andata un miglio e e e e e e ma la stagione 8 io fai si di nuovo giudiamo tutti e ce ne andiamo non ci preoccupo cosa ho detto ora chiudiamo tutti e ce ne andiamo grazie mi è tralena della caduta ok ma soltanto se vediamo qualcuno dobbiamo cercare di batterli da vicino ma non da lontano questo è solo che stai facendo se la ti cambi arma hai visto? si no no la rotellina che può andare da sola siccome comunque questo non è un campo sportivo è una palestra l'altra volta è una palestra e qua è una piscina una discoteca o no una sola si è il pignolo basta è più forte di me eh me ne sono accorta la pompa poi buongiorno munizioni per cazzo sono uscito da 50 mario che è qua ubriaca da mario chi è ubriaca di chi è ubriaca di chi è ubriaca? eh eh poi vedo uscito ubriaca di ecco fatto ci sono altre bende chi le porta? le porto io quante ne hai? anche qui io ne ho otto c'è un beverone da una caraffata bevuta leggendaria che faccio eh la porto io e c'è uno slot libero hai raccolto il palo lo ho raccolto io mario c'è un servizio c'è ti sei baricato pure dentro ma che scusa l'altra bende ho trovato eh da eeeh vabbè se voglio riconsumare il legno è sele che è è la sele una volta mi ruba lo slot una volta mi in mezzo chi vuole le bende? chi è? questa è un'altra bende è sele no è più che c'è otto bende pure raga ma assalto ne avete tipo io ne ho 80 raga la safe raga la safe spostiamoci bene ce l'ho io ecco assalto ne ho 80 pure io ne ho 200 eh eh quando mai no quando mai no oh ciao killer ciao killer non è qui lo come si chiama? non è qui sta scrivendo tramite la chat non mi viene in mente non è qui la palla di riso killer non lo dai allora eh no basta niente allora e allora che? allora al secondo al secondo ah 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 ma perché non ci porta a mangiare una pizza dopo? eh non ti ho qua ti posso apprendere dimmi solo al che ora no lo sto prendendo anche me allora eh no vengo pure io a su punto eh allora allora paga lui che pagalui chi? che è sta camorro? no vabbè ci hai invitato eh a lui razzotti mario vuoi venire a ballare con me? no grazie per questo si parola con Sene quindi la pizza non la vuoi ah guarda il ricattatore stanno 10 band qui ma quanto c'è un aereo privato no? cosa c'è? quanto c'è un aereo privato certo mi fa venire in macchina fino a giù nooo tranquilla ma che è la corsa d'ostacoli? eh proprio ho fatto parecchie barricate qua cacchio no 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 lo sapevo ho detto ora non lo vedo non gli dico niente si è buttato ho fatto ho fatto la barricata nel punto morto Andy il punto morto è pronto e te lo faccio nel punto morto ho detto uno dei paesi butterò che crema si tutto ok killer il punto morto è un fronte te lo faccio vedere è dull eh scappo scappo ragazzo manda fuori safe ragazzo manda fuori safe eh dai eh oh saliamo sulla montagna ragazzo oh saliamo sulla montagna ragazzo ahahah 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 oh c'è gente c'è gente c'è gente c'è gente no 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 ma io con me che mi trovo giusto qua ma io con me che mi trovo giusto qua sono rimasto anche a strada una terra raga sto morendo sto morendo 10 questo è mio scherzo scherzo c'è il barilotto chi lo vuole? tutto io eh c'ho il kit medico per Andy Andy ti ha fatto cascata la parola c'ho gli scudini si è Andy il kit medico avete gli scudini? eh uno solo ne eh raga avete bende? sono a cuore si ho 8 eh me le passi un paio per piacere si si tieni 4 va bene dovre si c'è un po' blu là comunque raga quello verde qua il thompson verde è qui va a ver il pompa blu? qua ah no non è questo mi sono gioco da altre macchine che io devo girare tipo benissimo raga sotto ne avete quanti ne avete? шие no 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 cazzo ci hanno visto via 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 evitiamo combattiamo 27 preso non lo so possiamo pure evitare però attenzione che bravo Mario ma non ti mettere il bella vita pichia attenzione attenzione ritroffati no cazzo dalla sinistra o mi hai eliminato harry potter è di da poter ok snob ci fatto morì contento li video ho un altro avvolo ciao 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 xD vogliamo fare l'ultima ok ok il quarto non lo riempire vai da caccia era una bella partita questa io non le avrei battute a quelli comunque pronti letta mamma al bullying io giovere con le sue bocce ma dov'è al bullying cioè dov'è germania la in germania a su instagram pensavo su su stare in live e stava giocando a bullying si in live al boom ci sono tutti siamo solo noi buona buona mi quante bocce poverate ma ce la fa ha fatto strike non si sa si è staccato dentro ok dove andiamo e dove vogliamo andare raga io mi butterei all'hande all'hande no alla villa andiamo alla villa andiamo alla villa porca vacca allora io sono arrivato dove c'è l'esaminatrice e lì sono arrivato ora voi lo sto facendo a rita si bravo ah anche è antipatica eh so troppe cose da fare ho fatto già tipo 5-6 lezioni con lei però la cosa bella è che quando per esempio fai le lezioni della storia insomma ti da 5 stelle in 3 ore dico è buono ma lo sai che non so se è tardato quella della biblioteca no anzi quella delle scope quando tu fai la lezione delle scope ti ha dato i punti che il fondo oro a te al terzo anno penso di sì quando quando rita dice se sei stati bravi tutti e due lei ti fa la domanda dice secondo te vicino al tuo personaggio secondo te chi dovrebbe vincere questa sfida e tu puoi scegliere tra te Rowan oppure fai scegliere alla professore eh fai scegliere all'esaminatrice la come cazzo si chiama lei eh io gli ho detto alla professoressa di far scegliere forse eh purica eh infatti mi ha dato i punti si si e poi a me pure ma quante stelle c'hai per il vestito? eh sono una trentena secondo me bro io sono 65 eh beh io sto facendo lezioni della storia cioè in base a quelle mi sono più delle stelle beh le lezioni della storia sono meglio perché ci sono lezioni che ti danno 5 stelle no quasi tutto hanno 5 stelle esatto quasi tutto hanno 5 stelle eh io proprio aspetto che mettono le lezioni nuove speriamo che li mettono giovedì cioè domani mattina perché altrimenti viene difficile arrivare a 120 sono a 65 troppo alte vabbè ma loro lo fanno per appunto con le stelle là cioè per dar tempo a sì sì per darti qualcosa da fare durante l'attesa però è tutto calcolato se ci può arrivare a farle diciamo se uno fa le devi fare devi fare una da 3 e una da 4 sempre io invece faccio tutte da 1 una da 3 e una da 1 scuso ho sbagliato io e fai prima ci arrivi facile proprio perchè da 1 quante stelle da 3 mi sembra quella da 1 ora ne da 2 quella da 3 ne da 3 eh quella lì devi fare 3 2 5 ti fai in 4 ore devi fare 5 stelle in 4 ore poi perchè tu calcoli una mezzone di 3 ore la finisci in 1 ore e mezza e quella di 1 ora la finisci in 1 minuto esatto no io li faccio sempre da 1 ora invece appena si ricarica si rifilla la vita io faccio quella da 1 ora e poi aspetto che si rifilla ogni rifillata la prendo 2 stelle ho visto c'è in teoria punti tu 1 ora per caricare tutta l'energia boh io c'ho 35 di energia ora ne servono 29 per fare una lezione 27 29 c'ho 260 cristalli vorrei prendere il gufo ma io sto a 359 mi tengo il rospo da 120 e la quanto costo eh ma non so io non l'ho comprato l'animale sto ancora valutando ma ragazzo il rospo ti da diciamo che come velocità di ricarica ti da uno di vita cioè sempre uno di energia ti da però te li danno più velocemente tipo il gufo è più veloce poi c'è l'altro non mi ricordo di preciso però cazzo tu mi fai spendere le gemme non mi dai c'è una cosa che mi da almeno 3 di energia almeno 3 il rospo te la dà ogni 8 ore forse il ratto ogni 6 ore poi che c'è il gufo il gufo il gufo il gufo il gufo il gufo penso ogni 4 ore il gufo penso ogni 6 ore l'ho appena detto quanto? ogni 6 ore ha detto il gufo allora sbaglio no il ratto volevo dire ah il ratto ok si si il gufo ogni 4 ore dovrebbe essere così e il gufo penso ogni 3 o 2 ore penso però sempre uno di vita capi? no ma io aspetto in fine che andiamo in safe in fine che mettono qualcosa di meglio con le gemme anche perchè mi riesce spesso guarda un video e ti guadagni 3 gemme non mai mai non mai sembra spesso mi riesce si ti conviene che li raccogli per qualche altra cosa si infatti quello sto aspettando per essere fuori qualcosa di decente io mi vorrei pigliare la capigliatura quella con tutte le capelli taisy che costa 200 però è la più diciamo raga io vi lascio il lutto qui dove andare a cena ci becchiamo dopo va bene la continua con noi quest'ultima vai ok ciao raga buona cena ciao ucciditi ok all'elp 90 questo lo vuoi tu aspetta questo verde se lo vuoi te lo puoi prendere questo qua eeeh boh va bene così l'assalto verde ti serve? giaccelo ok uno vio io giaccelo grigio ok andiamo comodiamo questa partita e ci andiamo anche noi sarà dura perchè ora siamo contro quattro c'è gruppi da quattro quindi combattiamo fino alla fine e poi facciamoci ammazzare alla stacasa non mi sembra lootata vediamo infatti montando su un verde da quanto ci giochi a fortnite? da poco all'inizio ho fatto qualche prima partita appena è stato rilasciato poi io sono stato parecchio impegnato inoltre non avevo una connessione potente quindi ogni tanto mi staccava tutto eh adesso ce la faccio con la fibra eeeh è già diverso con la fibra è tutta un'altra cosa guarda sto streamando da quasi due ore e non mi è nascata la live e non si è bloccato proprio niente esatto perfetto perfetto puoi streamare proprio pulito pulito vabbè da ps4 stream si per il momento si poi più avanti posso stream anche su playstation 3 e su un pc appena ne procuro uno ma è la pro o la slim quale hai? allora come playstation tengo il primo modello della 4 1 terabyte questa l'ho vinta alla lotteria di halloween infatti fa 3 anni per tupia ah quindi puoi streamare massimo a hd 60 fps se non sbaglio 720p si la risoluzione che puoi utilizzare il vr però con l'ultimo aggiornamento dovrei riuscire anche a fare a 1080 infatti ce l'ho pure ah si? si posso anche streamare la slim chiedami nella slim no non me lo da questa impostazione la slim io sapevo che si poteva fare solo dalla pro buono 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 e tre le playstation compreso la 4 quindi 2 3 4 tengo il primo modello della 1 la 2 slim eh io pure la 3 da 40 gigabyte con 2 ingressioni ah quella la slim come giochi attualmente ne tengo pochi perché man mano sto cercando di comprarli eh io pure vabbè io ho una decina non di più vabbè però io di solito li finisco e li metto da parte o me li vendo e me ne compro altri faccio così ah io invece faccio collezione no le esclusive io non me li vendo se sono esclusive ai playstation non li vendo però tutti gli altri li rivendo uuuh immaccia miseria attento ma dov'è? no non sto parlando con te ma eccolo l'altro la sub sto cercando di non farti uccidere però è un problema eh perchè quello stai lasciando eh ma è uno solo si è uno solo no c'è un altro no c'è un altro ma quanto cazzo di scute aveva eh vabbè a posto babbo io vado vado a mangiare ok ci vediamo un attimo in selfie a posto allora babbo ci si vede ciao vado a mangiare buona serata ciao 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 bene ragazzi anch'io concludo questa live ancora un buon ferragosto grazie alle persone che ogni tanto mi hanno seguito ringrazio thriller che mi ha scritto prima va bene va bene spero più avanti di portare altri giochi oltre giochi singoli e multiplayer un bacione a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti